Mie cari amiche sono Gabri, Gabriella del Baule della Nonna a San Benedetto del Tronto. Allora, oggi sto facendo questa ripresa perché mi sono, come dico io, acchittata, un altro angolino, un'altra postazione di lavoro. Ecco, in questa postazione di lavoro io farò le cosine dei bambini, vedete come i fiocchi nascita, come le cosine della maglieria uncinetto, le copertine, le bambole, guardate. Queste sono tutte cose fatte da me. E poi mi sono preparata un tavolo, no, su cui ho messo una tovaglia che è, però, una coperta da lettino con le sbarre per una bimbetta. E allora ho pensato, adesso la faccio diventare una tovaglia. Devo cambiare la fodera perché non ne avevo un'altra nuova. Mo' la vado a riprenderla, la fodera di plastico, perché io qui sopra ci lavoro, mi si macchia, ci dipingo, eccetera. E poi, siccome la stoffa è tanta, ho pensato di rivestire pure la mia seggiola. Adesso ci ho messo il grembiule a forma di bambola perché questa è la zona dove noi giocheremo. Quella è la mia macchinetta riesumata del 1979 che è ancora là, eh? Ho messo la mia macchinetta e qui. E questa è la mia nuova postazione per fare questi lavoretti. Vedete? C'ho appeso le tendine che ho dipinto io. A mano, logicamente. Guardate. Poi qui ci ho rimesso due scaffali con sempre le cose lavorate da me. La copertina fatta ai ferri, la topona qui perché è bella grossa. Guardate che carina. Dato che questo è l'angolo delle bambole del gioco, ho messo tutto qui. Ho raggruppato e penso di aver fatto bene perché se no è un pezzo qua, un pezzo là. Non si sa mai dove sta sta roba. Ecco qua un cuscino a forma di elefantino, sotto un'altra copertina a uncinetto e sotto un'altra ancora dove poi sui quadrettini ci ho ricamato delle roselline a punto vapore. Qui sopra ci sono i miei topini maschi. Eccoli. Questi tre giovanotti. Sopra c'è un quadretto con il cane e il gatto fatto a tombolo. E poi, guardate, ci ho messo una bellissima scritta. Allora, che cos'è quella scritta? Make, fare, è il mio motto e anche il vostro, lo so. Fare. Questa è una copertina estate-inverno perché togliendo l'imbottitura sempre dipinta. Togliendo l'imbottitura estate e invece mettendocela è inverno. Qua sotto ci sono gli altri pupazzetti. Questi devo fare il tutorial. Adesso di molte cose faccio il tutorial perché questo l'ho fatto. Però ero all'inizio e non ho fatto vedere bene le manovre. Ragazzi, inesperta, non c'è il modello. E allora, tante ragazze me le hanno richieste perché sono carucci, questi pupazzetti. E si fanno in un modo velocissimo. Che poi vanno personalizzati. Perché uno ci ricama una scritta e la mette sul corpo del pupazzo. Guardate questo. Sotto ci sono quelli un po' più grandicelli. Sempre costa il pannolenzio, la microfibra che è piuttosto morbida, alternata con le stoffette. Guardate. E faremo anche questi perché me l'avete richiesto. Il porta pannolini o il porta pigiame. Ma questo è prettamente per il porta. Oddio, magari è grande. Lo possiamo pure fare come porta pigiama. Però già se la bimba è un po' più grande, ho intenzione di fare degli angeli bellissimi. Le avevo fatti già e le ho venduti tutti. Con queste ali e queste bellissime. Molto grandi da appoggiare sul letto. Sopra ci sono le coperte di cotone. Questa è la nostra Eva. Quell'altre due, Rossana e Roxanne, sono esposte in vetrina. Non lo portate dentro. Quelle sono le ceste con le bambole. Che abbracciano il cesto. Guardate. E ci avete il tutorial. E poi vabbè, qui ci ho messo tutti i vari trist dei bavaglini. Queste sono delle torte che voi potete fare da sole. Perché si vendono in questi negozi la torta. Voi la montate. Poi sopra ci mettete un oggettino. E la regalate con i confetti. Non so quando vengono a trovarvi a casa. O un battesimo. Ma non ho anche una festicciola per bambini. Guardate che graziosi. Che sei in azzurro. Semplicissimo. Comprate questi ciaffetti. Li incollate. E fate la torta. Niente. Qua poi ho dato. Ho ridato una sistemata. Perché togliendo il tavolo. L'ho messo di là. Ho messo. Insomma ho dato una sistemata complessiva. Ma alla meno peggio. Anche perché. Per fare le cose. Ci vuole. Un sacco di tempo. E lo sapete. Comunque sono soddisfatta. Di questa nuova postazione. Perché così. Quando facciamo. Le cose dei bimbi. O i vari pupazzi. Metterò a lavorare lì. Adesso la fodera del. Siccome me l'hanno richiesto in tanti. Io la farò. Con la stoffa. Con le bambolette. Però voi potete. Faremo dei cuscini semplici. Con delle. Diciamo. Come questa. Che ho fatto qui. Vedete. Ecco. Delle cose per coprire così. Anche perché. Questa è una seggiola. Che non è un gran che bella. Allora l'ho coperta. E vi farò vedere. Come fare. Semplicissimo. Con. Il cuscino sotto. Che si aggrappa. Con i lacci. Sotto alla seggiola. Proprio. Vedete. Già ho preparato. Un piccolo bavaglino. Perché volevo fare. Il compagnetto. Di Eva. Non lo so. Lo chiamiamo Adamo. Però mi sembra un po' troppo. Adamo. Non lo so. Ditemi voi. E volevo fa sto bambolotto. No. E gli volevo mettere. Il. Questo. Questo. Bavaglietto. Ma non ho fatto in tempo. Perché. Eh. Raga. Per metto a posto qua. Per sistema tutto. Eh. Tutta questa mattina. E tutto ieri pomeriggio. Perché per fare le cose. Caruccio. Ci vuol tempo. E non ho fatto niente. Non ho fatto un granché. Allora amiche mie. Vi è piaciuta la nuova postazione? Ve la siete fatta pure voi? Una postazione di lavoro? Nella vostra casa? Guardate che carino. Qui. Noi abbiamo tutto. A portata di mano. Adesso. Devo comprare uno scaffale. Con i cassetti. Di quelli di plastica. E. Se mi avanza qualche soffetta. Desta coperta qua. Ce lo voglio rifinire tutto. E così abbiamo tutto un abbinamento. Della cassettiera. Con. Con la fodera del. Del cuscino. E via discorrendo. Ragazze. Vi mando un bacio. Scrivetemi. Fatemi la pubblicità. Mettete mi piace. E di questo vi ringrazio. Vi rimando il bacio. Ciao.